Finalmente siamo qui ad estendere il servizio di raccolta differenziata porta a porta. L'altro giorno c'è stata la firma del verbale di consegno all'impresa giudicataria, la Diodoro Ecologia. È un servizio che avrà durata per 5 anni per un importo complessivo di 14 milioni e 500 mila euro circa. In particolar modo ci teniamo che con l'imminente, con l'ingresso oramai della stagione turistica, occuparci di Cologna Spiaggia, che è l'ultimo tratto litoraneo che deve essere interessato dal servizio e in questi giorni inizieremo tutte le attività di sensibilizzazione attraverso la lettera del sindaco, le attività di comunicazione dell'amministrazione, gli incontri di sensibilizzazione, la distribuzione dei kit, quindi dei mastelli alle famiglie, alle attività commerciali e arrivare finalmente a eliminare i cassonetti restanti nella frazione di Cologna e partire col servizio. In autunno ci dedicheremo a tutto il resto del territorio. Aumenteranno anche i controlli, ovviamente il porta a porta dà alla cittadinanza un servizio in più ma implica un impegno maggiore da parte dei cittadini. Impegna i cittadini ad essere più attenti. A Roseto c'è una grandissima sensibilità per quanto riguarda la raccolta differenziata e siamo convinti che con i controlli maggiori che verranno implementati ma soprattutto con la collaborazione dei cittadini sarà possibile raggiungere l'agoniato 70% di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale e creare finalmente le condizioni per poter abbassare la tariffa della Tari. Questo dipende dalla collaborazione che deve essere ancora più forte tra l'amministrazione comunale e soprattutto da parte dei cittadini che se fanno una buona raccolta differenziata potranno usufruire di questa possibilità.